dimmi la vita dimmi la vita guardami negli occhi guardami 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 c'hai creduto c'hai creduto c'hai creduto quando stavamo 1 a 1 c'hai creduto hai esultato hai goduto soprattutto quando ci hanno annullato il gol quanto hai goduto quanto ci hanno annullato il gol mamma mia quanto è goduto ma poi pum 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 arriva il gol del fuoriclasse il gol del fuoriclasse questo è un gol da fuoriclasse il mitico Chiesa che prende la palla il giocatore resiste al fallo e la va a piazzare lì palo gol 2 a 1 la Juventus supera il Monza che tra le squadre diciamo non blasonate è una delle migliori il Monza ha dimostrato in questo campionato di comportarsi molto bene e di saper giocare un ottimo calcio la Juventus passa 2 a 1 anzi 3 a 1 3 a 1 ma facciamo 2 a 1 la Juventus passa 2 a 1 a differenza del Napoli e del Milan noi andiamo avanti ancora in Coppa Italia si è vero che abbiamo un ritardo in campionato ma lo stesso ritardo ce l'hanno le altre squadre e il Napoli che sta facendo un altro campionato sono le altre squadre che stanno facendo un campionato molto molto mediocre questo dite però voi nei commenti non lo so detto questo la Juventus spazza via il Monza per 2 a 1 ringraziamo questo signore qui grazie chiesa grazie amore mio e noi ci salutiamo così Milanista Napoletano ciao a io avete visto come si va avanti di io papi avete visto come si va avanti avete visto come si va avanti ciao a io ciao a io ciao a io